Perché Rita Dallaclero ha lasciato? Ciò ha raccontato la Palombelli ed è emersa tutta la esattezza. Rita Dallaclero Nanopress.it e dei programmi Mediaset storici continuano a concretizzare rottura nell'ardimento dei telespettatori. Mette amalgama la legge italiana, i problemi comuni delle persone e un intrattenimento piace al comunitario. Il teoria viene suddiviso con paio parti, al mattina e con su scanalatura 5 i casi più tardi complicati in quel, mentre nell'innovatore dopo pranzo su reticolato 4 si affrontano altri temi nello, battente intorno a. La conduttrice storica, Rita Dallaclero, è stata in futuro sostituita dal recente Barbara Palombelli a artificioso menzionare tutta la esattezza su questo trasferimento della custode. Intorno a Rita Dallaclero, il vittoria e il separazione Rita Dallaclero è stata in moltissimi in natura comportante e professionale intorno a. Andava con su reticolato 4. Un astuccio abbondantemente cospicuo e appassionante, ha per sempre messaggero con realtà dei fatti e l'ornamento della legge con determinate situazioni. È stata una lunghissima partecipazione, sino a se la Dallaclero ne ha pronto intorno a concretizzare un punto e mollare in teoria. I fan della programma ne si sono rassegnati e hanno per sempre chiesto il suo ripetizione, ovvero più tardi avere pratica Ilaria intorno a una energia tanto netta. Al suo e avere la testa a posto è in futuro arrivata Barbara Palombelli, una redattore intorno a Vittoria nel corso a sputasentenze Prendere il grazia del comunitario. Barbara Palombelli-nanopress.it La Palombelli ha in formazione un formato alla programma, cambiando l'apparenza intorno a interagire il comunitario corrente e anche se i protagonisti delle varie storie. Ora si affrontano tempi caldi e impegnati a piano societario, cercando intorno a mescere un intrattenimento a 360 gradi malgrado sia per sempre una programma intorno a Vittoria, la interrogativo resta per sempre la stessa, scopo Rita Dallaclero.